Una grande delusione è quella della CISL in merito alle manovre del fisco del governo Renzi. Su documento di economia e finanza tanto discusso e atteso sul fiscal compact contestato da quasi un anno e oggi il segretario generale Furlan in visita a Pescara annovera tutti i sassolini nella scarpa nel giorno in cui si pensa a creare un movimento popolare grazie ad una raccolta firme. Il paese ha bisogno di ben altro. Noi abbiamo oggi condizioni esterne al paese assolutamente favorevoli. Si è dimezzato il costo del petrolio e anche le azioni della BCE e di Mario Draghi sono assolutamente a sostegno dell'economia reale e quindi rispetto a progetti di espansione dell'economia. Ma ci vuole un progetto paese e volevamo più coraggio da parte del governo e pensiamo che debba comunque trovare questo coraggio per mettere sino in fondo in discussione il fiscal compact. Noi dobbiamo creare l'Europa del lavoro dopo l'Europa della moneta. 80 euro in più non sono sufficienti, spiega. Riavviare l'economia significa far ripartire i consumi. I consumi sono dettati dal lavoro e il lavoro ancora manca. Gli 80 euro sono stati una cosa molto positiva per tanti milioni di lavoratori e di lavoratrici. Ma non basta, immediatamente sono stati assorbiti dall'aumento delle tasse locali. Ancora tagli dal governo su scuola, sanità, l'Abruzzo piange, taglie di servizi e marcia per le proteste. Ma ancora, spiega il segretario generale, si può tagliare su altri sprechi. Vanno tagliati gli sprechi nella pubblica amministrazione, anche nella sanità. Quindi si deve puntare al taglio degli sprechi nella pubblica amministrazione, valorizzando invece, assolutamente al contrario, il valore e la qualità dei servizi alle cittadine e ai cittadini. La raccolta firme avverrà anche in Abruzzo. Punti saldi della proposta CISL, il bonus da 1000 euro, nuovi assegni familiari, nuova regolazione delle imposte locali, una nuova imposta sulla ricchezza netta, ancora riduzione sull'evasione fiscale e flessibilità sul sistema pensionistico. Nuovo patto per i giovani e previdenza sociale. Noi in Abruzzo e Molise, ma in tutta Italia, fino alla fine di luglio, raccoglieremo firme in tutti i posti di lavoro, nelle città, nei paesi. Proponiamo una tassone sulla ricchezza, sopra i 500 mila euro annuali per le famiglie. Per chi dalla crisi ha avuto vantaggi, 1000 euro a lavoratori, pensionati, incapienti, a lavoratori autonomi. Quindi ci rivolgiamo anche a chi non è iscritto alla nostra organizzazione. Prevediamo anche una proposta di rivedere il sistema degli assegni familiari. È un sistema che pone un limite all'aumento della pressione fiscale, mettendo insieme quella nazionale e locale. Non possiamo avere gli 80 euro da Renzi e poi avere sottratti dagli enti locali o dalle realtà locali 100 euro per l'aumento della tassazione.